Buonasera e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Siamo qui per farvi vedere un ottavino usato. Trattasi di un Armstrong contestato in argento e corpo in evano. Lo strumento si presenta in perfette condizioni, la meccanica è perfetta, l'ho regolato io stesso. È dotato della sua custodia e vi faccio sentire giusto il suono per rendervi conto. La tavola bassa. Ok, spero che vi possiate rendere conto un pochettino delle caratteristiche. Se volete venire a provarlo, qua in negozio il Rotonda Giuseppe Antonio Torri a Bologna. Sicuramente è un'ottima occasione. Ciao!